Si va verso la conversione in decreto dell'ordinanza Martini, nata per tutelare la salute e la sicurezza dei cavalli nelle manifestazioni. In terra d'Arezzo pensiamo subito al Saracino e al Palio Castiglionese. Per saperne di più ci siamo rivolti ad un esperto di questo mondo, affermato starter negli ipodromi e noto mossieri passato anche da Siena. L'ordinanza Martini è stata retirata per circa 5 mesi, quindi a fine maggio scadrà e mi auguro e spero con tutto il cuore che sia retirata per altri 6 mesi per arrivare alla fine dell'anno per non creare problemi agli eventi e manifestazioni che dovranno esserci durante il periodo estivo. Naturalmente perché se ci fossero sostanziali modifiche sarebbe un problema metterle in atto al momento così velocemente senza magari avere una preparazione o una prescrizione pregressa da tempo per poter mettere in atto tutto questo. Non ci dovrebbero essere grosse modifiche in questo DPCM che dovrà uscire, però fino a che non è uscito non si sa. Purtroppo è in concertazione politica in questo momento, quindi dovranno definire le ultime cose. Sicuramente nel quello che riguarda il doping ci saranno poi darsi farmaci nuovi, tolleranze nuove, concentrazioni differenti perché è tutto in evoluzione, però per adesso l'ordinanza Martini va fino a maggio, diciamo ai primi di giugno. Poi nella speranza, come ho detto, che vada a finire la fine dell'anno il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio, esca nel 2025 per dare modo a tutti di prendere per tempo tutto quello che staranno a fare.